Io e Antonella abbiamo fatto un percorso di 87 giorni in questa casa, è un percorso importante, non ci siamo scelte perché ci siamo ritrovate a condividere un letto, le ho voluto veramente bene e spero che in qualche modo lei lo abbia compreso. Ieri io non ho accettato l'iniziativa di Antonio, la nostra preghiera di abbracciarla perché era un gesto che in quel momento non sentivo. Però l'hai fatto stasera? Assolutamente, compiere quel gesto per me sarebbe stata una forzatura e quindi un gesto non vero. Stasera io ho salutato una concorrente, ho salutato un'inquilina come ho salutato tutti i concorrenti del Grande Fratello e sono certa che fuori da questa casa per Antonella, quando sarà naturalmente, vivendo entrambe su Roma e quando sarà possibile ovviamente per tutte le questioni che stanno accadendo in questo periodo nel nostro paese, sono certa che riusciremo a chiarire tanti aspetti del nostro rapporto. Bene, questo mi fa molto piacere, credo anche ad Antonella.